Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Balla tu corpo allegria ma carena per tu corpo ballare allegria cosa buona Balla tu corpo allegria ma carena e ma carena Ciao bello Grazie mille per i quattro mesi, ciao bello Grazie dei quattro, grazie mille Perché non sono a lucca vedere cammello pagare cammello Oramai sarà sempre pensa che sono dentro sono sopra questi Aspetta salgo io non salga subito Che facciamo No è buggato vabbè gg Cosa è successo? Boh si è buggata una jump ho jumpato e mi ha fatto dare il danno alla caduta E' come faccio a restarla io ora? Minchia sono andato sotto la mappa Io non pago questa betta L'ho presa io l'arma Io non pago che... A me mi piace la nutella Figa cavallo Andiamo Ciao Giacomo grazie degli undici Ciao Giacomone Se prendo anche la... Dietro in 59 Lo portiamo a casa Ciao Andre Io 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 Andre sottolineatura Nove mesi Nove mesi Grande ex iuderone Merzia Grazie Andre Ok nice Merda Su Spotify No parlavo Cazzo è tutto buggato Tua madre c'è anche i cazzi Tua madre Parco diavolo Cazzo merda Cazzo merda Cazzo Tipo quattro maschi Quattro ragazze Niente Ehm No allora Sì Però vorrei delle mutande in ferro Con il buco del culo chiuso E il cazzo libero Allora possiamo fare quello che volete Hai capito magari nell'orda Le mutande in ferro Con il buco del culo chiuso Magari in quell'orda Di peccino Se torna uno Glielo sbatte dentro Hai capito Hai capito Io vorrei che il mio buco d'uscita Rimanesse un buco d'uscita E non diventasse un buco d'entrata Si scena ragazzi Immagino che ci vuole con le mutande di ferro Con il buco di culo chiuso Io non so come faccia a immaginamolo Dove essere sincero Sì Infatti Lo stai immaginando Eh sì Perché l'ho vista a volte Con la capicia smottonata Forse per questo come lo immagino Che schifo Ma quando mai Mi scusate Vabbè da chiedere a quello lì Vabbè Lei ha una produrità non indifferente Quindi immagino che lei sia tutto il corpo così Orca vacca nel mio culo E bruttissimo C'è una striscia di pelo Che taglia proprio la chiappa Che dici Ma come cazzo fa Abbiamogli ancora a vederlo dopo dieci anni Bisogna arrivare E allora che cazzo fumano di là Scusate È un po' così La ranking è una cosa Terrificante Terrificante Certo Miki Ciao Beto Tanti auguri Ciao bello Forti e organizzati in pubblica Sion il suo è partito Dovrebbe riceverlo oggi Potrebbe No aspetta Il suo Potresti riceverlo oggi Sion Non so Se le tue zone consegnano Sion ragazzi abita in Africa del Nord Direttamente a Capoverde 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 Ha cambiato Le Maldive ha la casa Capoverde Dovrebbe arrivare oggi Sion Grazie a copertina God E dobbiamo parlare sa Devo assolutamente aggiornarti Ti dico solo che ti mando queste cose Eeeh Non Nessuno C'è uno in piazzini Vai via Vai via Vai via Fata Fata veloce Porca diavolo Fata veloce Il porcazio Mido No Ma Mi ha piaccia C'è 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 Sì Sì Vuoi sapere dove erano Lo so dove erano No no Non lo sai dove erano Guarda Guarda la colli Senta in colli Guarda dove erano Non erano dove pensi tu Perché lì me lo stavo Era prima cosa che ho controllato Aspetta Ti pronto Ti sei Guarda Non è questo Due pannocchie Ok oh man Sono vivo Io vado dentro Amo Dimmi tutto No Ma anche cambiando il cd Cambiamo il cd Amo Non possiamo perdere tempo Per una busta amo Metta una busta Per favore Metta una busta Ci sta 40 euro Con culo Amora con le buste Piano C'è gente qua Sono in due Che cosa hai fatto Simo dimmi Il cd è uguale Ma cambi la busta Ah sì sì Credo che sia la prima volta Che sbadiglio in live In sei anni No Ah ma ci siamo ragazzi Ci siamo Ci siamo Quindi ringraziamo Ringraziamo Ah questa è la singola A botta singola Ringraziamo allora Tutto Era botta singola Ringraziamo i ragazzi Che ci hanno guardato Salutiamo Pizzi Nisa e Volpesco Sono i mentali Bene 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 Poi io ho giocato bene qua Vai Sì sì assolutamente Se FS dice una cosa bannabile Bannano anche me No No mi devo dissociare immediatamente Ovviamente Ma non bannano anche me Io non dico cose bannabili Guarda intanto parte qualche testa tagliata Ma io parlo sempre Ne abbiamo tre Oggi ne abbiamo Di da fare Più un sacco di robe Saluto anche Geco Nico CR Matt Sebi Dario Ska Buongiorno MCN Arrivata me Tracciatura CD Easy E allora vuol dire che funziona tutto Molto bene Buongiorno anche a Samu Buongiorno Gabriele Buongiorno Cristiano Saluto anche gli amici di Tic Buongiorno amici di Tic A tutti voi Come state Come la va Quindi ragazzi Molto molto bene Gente qua Gente qua Stia calmo Stia calmo Stia calmo Stia calmo Guardi che anche io ho fatto un sacco di danni Calmo Mette un asia impressionante Mettilo fallo Prendilo E qua ho continuato a tirare i fortateli Porco di Iaz Sembrava che gli uscivano tipo cilindri Dai coniglio O contrario Figa Cilindri dai coniglio 28 mesi Grazie Tom Grazie Buongiorno Zero Quanti beat vuole per suicidarmi in questo game 5000 Andiamo Eh Ma non ha senso Non possiamo tenerla Anche a me dispiace toglierla Ma non ha senso più tenerla sopra Adesso che esce la seconda con la voce Non posso avere la stessa canzone sia strumentale che con la voce Eh Devo toglierla invece ragazzi Va bene Va bene Dobbiamo prendere per il culo Prendiamoci per il culo Guarda adesso io devo tirare dietro il muro di uno Perché non ci sta il porca puttana di porca troia Maledetti bastardi Maledetti bastardi Maledetti bastardi Ti faccio vedere io chi prende per il culo Chi adesso ti faccio vedere Come ha È perso parca di Io ho detto venga qui Sono due Ma ero credo che fossero questi Ma hai detto altri due Ho perso tu Ciao ne vado Sì 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 Lo hitto da lontano Per 038 Dai ti prego non farmi perdere Eh ti prego Le 15.000 devo arrivare Dai che cazzo Io io Or Cristo di Dio Io Porco Cazzo Non vale 500 patetini Non vale la rifaccio Non vale Non vale Grid suver continuo e così